Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Prima di iniziare, piccola premessa. Sono malata di nuovo. Ho un po' di raffreddore, un po' di tosse, un po' di mal di gola, un po' di mal di testa. Insomma, sono un po' influenzata. Quindi, perdonatemi per la mia voce, mi rimetterò. Però, insomma, per adesso è un po' così. Ho preso il raffreddore da un paio di giorni, quindi non è assolutamente al top. Detto questo, partiamo realmente con il video. Quando il sole tramonta, la notte può diventare teatro di crimini efferati, rivelando gli aspetti più oscuri della natura umana. È il dicembre del 2009 e ci troviamo nella contea di Suffolk, che si trova nello stato di New York e, più precisamente, nell'isola di Long Island. Rebecca Coaster, soprannominata Becky, è la protagonista di questo caso, una 24enne che abita nella località di Medford, dunque nella contea di Suffolk, insieme alla madre, Barbara, al patrigno, Larry e al fratello, Damien. Ora, vi racconto un po' di lei. Becky nasce il 12 giugno del 1985 e vive un'infanzia felice. Sua madre, Barbara, afferma che era una bimba molto dolce. Le due sono sempre state affiatate, hanno instaurato un legame speciale che custodiscono anche quando Becky cresce. Col tempo, infatti, il loro rapporto evolve. Potrebbero essere definite anche migliori amiche, visto che si raccontano tutto. Becky è una ragazza frizzante, sorridente e piena di vita. È dotata di uno spiccato senso dell'umorismo e ama rallegrare le persone che le stanno intorno. Sua madre afferma che è impossibile rimanere tristi se si è in compagna di Becky, che la sua simpatia e vitalità sono inarrestabili. Becky ha anche altri pregi, una persona gentile e premurosa e quando cresce inizia a lavorare come infermiera, proprio come sua madre Barbara. Non solo, le due per un periodo lavorano insieme in un reparto cardiaco, ma poi Becky preferisce focalizzarsi sull'assistenza sanitaria domiciliare per dare supporto alle persone diversamente abili direttamente nelle loro case. Somministra loro i farmaci prescritti dal medico, le aiuta a lavarsi e vestirsi, cucina per loro se non sono in grado di farlo da sole, eccetera eccetera. Becky si appassiona tanto al suo lavoro ed è adorata dei suoi pazienti. Ha costruito una solida carriera e conduce anche una vita personale soddisfacente, da non molto sta insieme a un ragazzo di nome Dan Mayer, con cui è molto felice. Inoltre ama passare del tempo con gli amici, divertirsi in buona compagnia, andare nei bar o club per trascorrere serate spensierate. La sera del 3 dicembre 2009 Becky esce con un paio di amiche, tra cui Nicole, la sua amica del cuore, mentre Dan ha in programma di unirsi al gruppo più tardi. Intanto le ragazze si recano in qualche bar della zona, ballano e passano una piacevole serata. Intorno alle 3 del mattino del 4 dicembre, Becky lascia il locale in cui si trova per tornare a casa. Dan, che l'ha raggiunta, la riaccompagna e alle 3.30 circa Becky scende dalla macchina del fidanzato ed entra nella propria abitazione. La ragazza si toglie il cappotto e manda immediatamente un messaggio a sua madre, che sta svolgendo il turno di notte all'ospedale per comunicarle che è rincasata e sta per andare a dormire. Per Becky rimanere in contatto con la madre quando esce la sera è un'abitudine che evita a Barbara di preoccuparsi. Tuttavia, solo un paio d'ore dopo, verso le 6 del mattino, la mamma di Becky riceve un altro messaggio, questa volta dal suo compagno. Larry, che è un venditore di ricambi per camion, è già fuori casa anche lui. Scrive a Barbara che l'ha appena contattato il capo di Becky, perché lei non si è presentata al lavoro quella mattina presto e non l'ha avvisato della necessità di assentarsi. Barbara suppone che sua figlia non abbia sentito la sveglia, dato che ha fatto tardi la notte precedente, così le telefona nel tentativo di svegliarla, ma Becky non risponde mai. Le lascia dei messaggi in segreteria, le scrive altri messaggi ribadendo che deve alzarsi e andare al lavoro, ma ancora non riceve risposta. Passano altre due ore, poi verso le 8 e un quarto di quella mattina, Barbara lascia l'ospedale e si dirige verso casa con l'intenzione di controllare se Becky stia bene. Appena arriva, nota che l'automobile di sua figlia è parcheggiata nel dialetto di casa, e questo in realtà la rassicura, Becky deve essere ancora a letto. Per andare al lavoro, avrebbe dovuto mettersi in macchina. Barbara quindi entra in casa e apre la porta della camera di sua figlia, ma con sorpresa scopre che lei non è lì. Anzi, sembra che Becky, in quella stanza, non ci abbia proprio dormito perché il letto e tutto il resto sono perfettamente in ordine. Barbara comincia a girare per l'abitazione in cerca della ragazza, ma lei non c'è. Ma quindi dov'è finita? Non si trova né al lavoro né a casa, dove si sarà diretta. Barbara è confusa ma anche preoccupata, quindi contatta Nicole, la migliore amica della figlia, che è uscita con lei la sera precedente. Nicole però non ha idea di dove si trovi la ragazza, anche perché ha lasciato il locale ancora prima di Becky. Nell'andar via ha chiesto all'amica se volesse un passaggio, ma lei ha preferito intrattenersi al bar per un altro po' e aspettare di essere riaccompagnata a casa dal fidanzato. Barbara quindi chiama Dan per chiedergli se Becky è con lui, ma nemmeno il ragazzo porta buone notizie. Infatti, l'ultima volta che ha visto Becky risale alle 3.30 del mattino, quando l'ha riaccompagnata sotto casa. Barbara decide di aspettare un altro po', sperando che Becky si faccia viva presto, e nel frattempo continua a chiamarla sul cellulare e a contattare altri amici della figlia. Le ore però passano senza che Barbara ottenga risposte o informazioni, così alle 19.30, insieme alla sua famiglia, decide che è giunto il momento di chiamare la polizia per denunciare la scomparsa della figlia. Un agente viene inviato a casa Coster per raccogliere una prima dichiarazione da parte dei familiari. Mentre la polizia indaga, i parenti di Becky contribuiscono alle ricerche e cercano in tutti i modi di rintracciare il cellulare della ragazza, che non è stato trovato né nella sua camera da letto né altrove. Dunque, immaginano che lo abbia portato con sé, ovunque sia andata. Intanto vengono monitorati anche i profili di Becky sui social media, nella speranza che pubblichi qualcosa. Utilizzando un software dal computer si ricavano diverse localizzazioni del telefono di Becky in varie aree di Medford. Dunque, familiari, amici e agenti di polizia si dividono in gruppi e si recano nelle differenti posizioni segnalate urlando il nome della ragazza. Vengono anche creati manifesti e volantini che informano della scomparsa della 24enne, distribuiti in tutta la zona circostante. La polizia, munita del materiale, si reca anche nei bar dove Becky è andata la sera della sua sparizione, chiedendo a camerieri e baristi se sappiano qualcosa. In assenza di utili sviluppi, la polizia lascia un appello ai media e al pubblico, così il caso appare su tutti i notiziari e la vicenda diviene nota. Durante queste operazioni, gli investigatori hanno già ipotizzato che Dan, il nuovo fidanzato di Becky, sia coinvolto nella sua scomparsa. Anche la famiglia della ragazza è sospettosa nei suoi confronti perché lui risulta essere l'ultimo ad averla vista quella notte. Dan, dal canto suo, riferisce di aver solo riaccompagnato Becky a casa dopo la serata e poi di essere andato via. Ma dice la verità? E se stesse mentendo? Se avesse fatto del male a Becky? Dan, in realtà, nega più volte con tutte le sue forze. Lui è innocente e non sa cosa sia successo a Becky, esattamente come tutti gli altri. La polizia non ha prove per incolparlo, per dimostrare che la sua versione dei fatti sia falsa, quindi continua a tenerlo d'occhio, ma non può arrestarlo. Poi, il 6 dicembre 2009, solo due giorni dopo la scomparsa di Becky, si verifica un importante sviluppo nel caso, che indica proprio Dan come il responsabile della scomparsa di Becky. Perché? Beh, durante questa giornata, Barbara riceve un messaggio proveniente dal cellulare di sua figlia scomparsa, in cui c'è scritto «Mamma, ho bisogno del tuo aiuto. Dan mi ha legata in uno scantinato e non sono sicura di dove mi trovo esattamente». Emerge quindi che Becky è stata rapita e fatta prigioniera dal suo ragazzo. Queste poche righe insinuano in Barbara un panico devastante. Prova immediatamente a richiamare il numero di telefono della figlia, ma non riceve risposta. Inizia a inviarle diversi messaggi, in cui le scrive di chiamare il 911, perché la polizia sarebbe riuscita a rindracciarla. Ovviamente contatta subito anche gli agenti che si recano a casa di Dan per capire se sta effettivamente tenendo Becky in ostaggio. Tuttavia, dopo un'approfondita perquisizione, non individuano alcuna traccia della ragazza. Spassano un paio d'ore e Barbara riceve un altro sms dal telefono di Becky, con un contenuto pressapoco identico a quello del messaggio precedente. Dan, la legata in uno scantinato, le ha coperto la bocca con del nastro adesivo e ora lei ha paura che la uccida, nel caso in cui scopra che è riuscita a chiedere aiuto. Aggiunge anche che crede di essere a Comac, una località di Long Island che dista circa 20 miglia da Midford, dove lei vive. Il localizzatore in effetti conferma che il telefono di Becky si trova nei pressi di Comac, in quanto rileva un segnale acustico da un ripetitore in un'area industriale. La polizia perlustra il posto e anche la famiglia della ragazza sopraggiunge. Urla il nome di Becky, bussa alle porte delle case e chiede ai residenti se l'avessero vista, ma anche questa ricerca non porta da nessuna parte. La polizia ora inizia a dubitare che il fidanzato di Becky sia davvero coinvolto nella sua scomparsa. Questi messaggi fuorvianti lasciano proprio pensare a un depistaggio, a un piano ordito dal vero sequestratore per far ricadere i sospetti su Dan, visto che ogni informazione fornita si è rivelata falsa. Becky non è stata trovata a casa del fidanzato e nemmeno a Comac. Per di più Dan è stato sottoposto a un altro interrogatorio e sembra sincero. Come detto, il detective a capo del caso sospetta che questi messaggi non siano stati scritti e inviati da Becky e per provare a identificare nuovi sospettati, la polizia ascolta a lungo gli amici con cui la ragazza è uscita la sera della sua scomparsa. Forse qualcuno di loro ricorda se Becky ha detto o fatto qualcosa di strano? Un dettaglio collegabile alla sua sparizione? In realtà le sue amiche ricordano qualcosa. Al bancone del bar hanno visto Becky conversare per un po' di tempo con un estraneo. O quantomeno loro non hanno riconosciuto questo ragazzo. La polizia quindi che fa preleva il filmato della telecamera a circuito chiuso del locale ed esamina la scena della chiacchierata tra Becky e lo sconosciuto. Potrebbe avere qualcosa a che fare con la sua scomparsa? Mentre alcuni agenti approfondiscono questo nuovo filone di indagine, le ricerche di Becky proseguono. Trascorsi quattro giorni dall'ultima volta in cui è stata vista, la polizia lancia un allarme di livello nazionale sulla sua scomparsa, coinvolgendo anche gli altri dipartimenti vicini. A seguito di ciò, la polizia della contea di Suffolk, quella che indaga sul caso, viene contattata dalla polizia dello stato del Connecticut, che si interroga sulle possibili connessioni tra la vicenda di Becky e un omicidio di cui si sta occupando. Proprio la notte della scomparsa della 24enne, quindi a cavallo tra il 3 e il 4 dicembre, un'automobilista stava guidando lungo una strada vicina a un'area boscosa di North Stonington, nella contea di New London, nel Connecticut. Superata quest'area boscosa, ha notato un incendio al lato della carreggiata. L'uomo, che lavora per i vigili del fuoco, ha accostato, è sceso dal veicolo, ha cercato di estinguere le fiamme e intanto ha chiamato i soccorsi. Altri vigili del fuoco sono sopraggiunti e hanno spento completamente l'incendio per poi fare una scoperta terrificante. Ad andare a fuoco? Era un cadavere. Così hanno chiamato la polizia, che è a corsa sul posto. Il corpo ritrovato senza vita appartiene a una donna, e ravvolta in una coperta in alcuni sacchi di plastica, fissati con del nastro adesivo. Chi l'ha scaricata in quella zona ha usato la benzina come accelerante per bruciare i suoi resti. Le analisi del patologo confermano i sospetti degli investigatori. La donna è stata uccisa da numerose pugnalate inferte con un coltello. La ferita mortale si rileva nell'addome e le ha perforato il fegato. L'assassino però non si è fermato qui perché il corpo della vittima è stato brutalmente mutilato. Ha reciso qualsiasi parte del cadavere per ostacolarne l'identificazione, come si evidenzia dai tagli sulle punte delle dita, fondamentali per rilevare le impronte digitali. Gli orribili sfregi si estendono anche alle dita dei piedi. Agli orecchie, al naso e ai lembi di pelle in corrispondenza dei tatuaggi della donna, ovvero su una caviglia e sulla parte bassa della schiena. Infine l'assassino ha dato fuoco ai resti della vittima per sbarazzarsene completamente. E ora la polizia del Connecticut ha una reale difficoltà nell'identificare la donna. Vicino al corpo non è stato rinvenuto nulla che agevolasse quest'operazione, ma poi il patologo ha notato qualcosa, un dettaglio che l'assassino ha dimenticato di rimuovere, o di cui non era conoscenza, un piercing alla lingua. Ecco il primo piccolo elemento su cui basarsi. Anche gli investigatori del Connecticut si sono rivolti al pubblico diffondendo la notizia di una donna non ancora identificata, il cui corpo è stato rinvenuto a North Stonington. Poi, come detto, un paio di giorni dopo hanno appreso della scomparsa di Becky Cosser a Midford e intendono approfondire il caso. Gli agenti del Connecticut scoprono che Becky ha o aveva un piercing alla lingua, proprio come la donna trovata cadavere a North Stonington. È possibile che si tratti della stessa persona? Dopo lo scambio di informazioni con la polizia della contetta di Suffolk, le impronte dentali di Becky, alle quali si riesce a risalire, vengono confrontate con i denti della donna non identificata. Ed emerge la corrispondenza. La ragazza uccisa e data alle fiamme a North Stonington è proprio Becky Cosser, scomparsa da cinque giorni e ritrovata a più di cento miglia di distanza dal luogo in cui viveva. Ora che i resti di Becky sono stati ritrovati, la sua famiglia viene informata della tragica notizia, quella che è cominciata come un'indagine su una persona scomparsa, ora si trasforma in un'indagine per omicidio. La polizia deve individuare chi ha ridotto Becky in quel modo, uccidendola brutalmente e deturpando il suo corpo. Le prove individuate sul cadavere vengono raccolte e sottoposte all'esame forense in laboratorio, così come i sacchi di plastica e la coperta avvolti dal nastro adesivo. Tuttavia, a causa della devastazione derivante dall'incendio, si teme di non riuscire a trarre degli elementi utili alle investigazioni. Qualcosa però fortunatamente viene trovato. Si tratta di due impronte digitali rilevate sul nastro adesivo, che appartengono di certo all'assassino di Becky. La polizia del Connecticut le inserisce in tutta fretta nel database, per scoprire se ci sia una corrispondenza. Ma, ahimè, non trovano nulla. Però, quando tocca alla polizia della contea di Suffolk, il compito di cercare l'impronta digitale nel database di New York, c'è un fortunato riscontro. Il caso dell'omicidio di Becky ha finalmente una svolta, perché emerge una corrispondenza in relazione a un uomo di nove Evans Gantier. Un nome che però non suggerisce nulla a nessuno, né la polizia che conduce le indagini, né gli amici e i familiari di Becky hanno mai sentito parlare di lui prima. Pare che questo Evans fosse un completo sconosciuto per la 24enne assassinata. Evans Gantier, a 30 anni, vive nel villaggio di Port Jefferson, sempre nella contea di Suffolk, a circa 10 miglia da dove abita Becky. L'uomo ha dei precedenti penali, infatti era stato arrestato e condannato 5 volte per altri crimini negli anni precedenti, i quali, pur non essendo riportati online, suggeriscono che lui fosse un tipo violento. In ogni caso, ecco perché il suo nome e il suo DNA erano presenti nel database. La polizia ora ha a disposizione delle prove che lo inchiodano all'efferato delitto di Becky. Il feroce assassino è di certo lui, come dimostrano le sue impronte digitali rilevate sul nastro adesivo. Inoltre, continuando a indagare, i detective trovano ulteriori prove che lo compromettono. Il filmato e le foto ricavate dalla telecamera di sorveglianza del bar indicano chiaramente che è lui lo sconosciuto con cui Becky aveva chiacchierato, seduta al bancone, la notte della sua scomparsa. E si nota anche che i due si erano scambiati i numeri di cellulare, come confermano i tabulati telefonici di Becky. Infatti, la notte in cui è scomparsa, ha ricevuto due chiamate circa un'ora dopo che Dan l'aveva riaccompagnata a casa. La polizia riesce a scoprire che il numero da cui sono partite appartiene a Evans. È lui l'ultima persona che ha telefonato alla ragazza prima che sparisse. Inoltre, quando la polizia controlla la localizzazione di questo telefono, apprende che nelle prime ore del 4 dicembre, esso era agganciato a un ripetitore di telefonia mobile nella zona di Midford, dove, come sappiamo, viveva Becky. Risalendo anche alla localizzazione del telefono di Becky, emerge che era stato spostato da Midford a Port Jefferson, dove abitava Evans. Questo significa che lui era andato a prenderla e che insieme si erano diretti a casa sua. Le prove contro Evans si stanno accumulando, quindi il 14 dicembre 2009 viene arrestato con l'accusa di omicidio e portato alla stazione di polizia, dove lo interrogano. Evans ammette che era con Becky quella notte, anche quando è morta, ma afferma di non essere stato lui a ucciderla. Racconta quindi la sua versione. Aveva incontrato Becky quella sera per la prima volta al bar, avevano cominciato a chiacchierare e poi si erano scambiati i numeri di cellulare. Più tardi, a notte fonda, lui l'aveva chiamata e avevano deciso di incontrarsi. Evans quindi era andato a prenderla sotto casa e poi insieme avevano deciso di tornare a Port Jefferson per rifugiarsi nell'abitazione del ragazzo. Tuttavia, durante il viaggio in macchina, lui aveva notato che Becky non stava bene, tossiva molto, aveva addirittura la bava alla bocca e serie difficoltà a respirare, ma Evans, invece di portarla al pronto soccorso, aveva continuato a guidare verso casa propria. Pensava che una volta lei avrebbe potuto darle un bicchiere d'acqua, così forse lei si sarebbe sentita meglio. Arrivati sul posto, Evans aveva parcheggiato la macchina in garage, mentre Becky era ancora stordita e disorientata. Infatti camminando era inciampata in un manubrio per i pesi lasciato sul pavimento del garage, di conseguenza era caduta e aveva sbattuto la testa sul pavimento. Aveva perso i sensi, allora Evans l'aveva riportata in macchina per poi guidare verso l'ospedale più vicino, ma si era fermato prima di arrivare a destinazione, perché ha salito dal panico. Evans temeva che, affidando Becky ai medici con quella brutta ferita alla testa, loro avrebbero potuto pensare che era stato lui a infliggergliela, ad aggredirla. Se anche avesse spiegato che si era trattato di un incidente, probabilmente nessuno le avrebbe creduto. Così, pungolato dai dubbi, Evans alla fine aveva deciso di rimettere in moto la macchina e fare inversione di marcia per tornare a casa. Quando era arrivato nella sua abitazione aveva ricontrollato Becky e si era reso conto che era senza vita. Disperato e mosso dall'agitazione, invece di chiamare i servizi di emergenza, aveva deciso di sbarazzarsi del corpo della ragazza. Così aveva compiuto l'ignobile atto di reciderle tutte le parti del corpo e i tratti del viso che considerava più utili per la sua identificazione. Dopo averla mutilata l'aveva avvolta in una coperta e in alcuni sacchi di plastica chiusi dal nastro adesivo e l'aveva sistemata nel bagagliaio dell'auto e aveva guidato fino al porto. Da lì aveva preso un traghetto imbarcando anche la propria macchina ed era arrivato nel Connecticut. A questo punto aveva scaricato il corpo di Becky sul ciglio della strada di North Stonington e poi gli aveva dato fuoco prima di allontanarsi. Evans confessa ai detective che, nel tentativo di convincere la polizia e i familiari di Becky che lei fosse ancora viva, un paio di giorni dopo la sua scomparsa aveva inviato quei messaggi dal telefono della ragazza, indirizzandoli a sua mamma Barbara. Come presunto, il vero assassino intendeva depistare gli agenti, facendo credere che Dent tenesse in ostaggio la fidanzata. Becky gli aveva detto che aveva un ragazzo e lui voleva sfruttare l'informazione per coprire le proprie tracce. Quella che vi ho riassunto, come detto, è la versione di Evans, a cui però la polizia non crede affatto. Innanzitutto non ci sono prove a sostegno delle sue affermazioni. Secondo Evans, la morte di Becky è stato un evento imprevisto che lo ha gettato nel panico. Ma, analizzando il filmato di sorveglianza ripreso dalla telecamera del traghetto, lui appare calmo, addirittura rilassato. In attesa di arrivare nel Connecticut, passeggia tranquillamente come gli altri passeggeri, pur nascondendo un cadavere nel bagagliaio della propria macchina. I detective controllano anche il filmato di sorveglianza reperito da un negozio del Connecticut, dove uno scontrino dimostra che Evans aveva acquistato il nastro adesivo, quello marchiato dalle sue impronte digitali, e dei guanti di gomma. Anche nel negozio Evans appare tranquillo, entra con calma, paghi i suoi articoli senza agitarsi. Ma come? Aveva detto alla polizia che era andato nel panico più totale, che era così tanto spaventato. Ad ogni modo, il motivo principale per cui la polizia non crede alla storia di Evans sono i risultati dell'autopsia eseguita sui resti di Becky. Come ricorderete, il patologo ha stabilito che lei aveva subito una serie di coltellate e che la causa della sua morte si ravvisa nel colpo che le aveva raggiunto il fegato. Dunque, non era deceduta a seguito di una ferita alla testa. Tuttavia, quando Evans ha raccontato la storia dell'incidente, il patologo ha deciso di ripetere l'analisi, giusto per essere sicuro che Becky era morta per via di quella coltellata e non a causa di un trauma cranico. Mentre aspettano l'esito di questa seconda autopsia, gli investigatori non possono ancora accusare formalmente Evans perché la morte di Becky non è già stata dichiarata come omicidio ufficialmente. Tra l'altro, la questione si complica perché a quel tempo, cioè nel 2009, nello Stato di New York, non esisteva una legge specifica sui provvedimenti per i reati di mutilazione o smaltimento di cadavere che nemmeno erano inquadrati come tali. Infatti, quelli che oggi sono riconosciuti come crimini all'epoca non erano disciplinati a livello normativo. Dunque, se anche Evans fosse effettivamente colpevole degli atti in questione, in attesa di far fronte alla lacuna legislativa, i detective sarebbero costretti a rilasciarlo. Intanto la polizia conduce una perquisizione a casa dell'indagato e all'interno del suo veicolo alla ricerca di prove. Fortunatamente nulla si rileva nell'abitazione di Evans che, di certo, l'aveva ripulita meticolosamente. Ha anche ridipinto una parte del pavimento del garage, forse per coprire delle macchie di sangue. In ogni caso, se la scientifica non riesce a raccogliere delle prove in casa, la situazione cambia durante l'ispezione della macchina, dove si rinviene una cospicua quantità di sangue sotto i sedili anteriori. Il campione di sangue viene analizzato e si conclude che appartiene a Becky. Sulla base di quest'ultimo elemento, la polizia ritiene che Becky sia stata aggredita e uccisa nella macchina di Evans. E questa è la scena del crimine. Presumibilmente il giovane, dopo essere andato a prendere Becky quella notte, si era stancato di chiacchierare e aveva provato a baciarla o a rivolgerle a altri a Evans. Ma lei non intendeva spingersi così oltre, quindi lo aveva respinto. Questo aveva fatto arrabbiare davvero Evans, che aveva estratto un coltello e aveva iniziato a pugnalare la ragazza. Dopo averla uccisa, come si sa, aveva portato a casa il cadavere e l'aveva mutilato. I risultati della seconda autopsia confermano ciò che aveva già affermato il medico legale, Becky è morta a causa di una coltellata che le ha raggiunto il fegato. Non ci sono prove suggerenti che avesse subito un trauma cranico. Questo dimostra che la versione di Evans è una bugia. Così viene ufficialmente arrestato e accusato di omicidio di secondo grado. Evans si dichiara non colpevole e continua a sostenere che la morte di Becky sia stata un incidente. Alla fine del processo, però, la giuria si schiera dalla parte dell'accusa e dichiara Evans Gunther colpevole condannandolo all'ergassolo. Penso con tristezza e rabbia agli ultimi istanti della vita di Becky. Di certo sono stati terrificanti, poi Evans ha deturpato il suo corpo in maniera così ignobile e questo particolare, compreso quello dei messaggi, mi ricorda il caso di Carol Maltesi. Io rimango sempre allibita quando leggo di un essere umano che compie degli atti del genere su un suo simile a causa di un rifiuto. Sono davvero infinitamente dispiaciuta anche per la famiglia di Becky, per la madre Barbara e tutti i suoi cari. Prima che trovassero il suo corpo speravano che fosse ancora viva proprio a causa dei messaggi fuorvianti di cui era autore Evans per poi scoprire solo pochi giorni dopo che in realtà Becky era morta. Deve essere stato davvero uno shock terribile e questo ci porta alla fine di questo video. Io quindi ho finito di parlare, sono davvero molto curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni. Questi casi sono sempre molto tristi, ve l'ho già detto in particolare, questo caso mi ha ricordato abbastanza quello di Carol Maltesi, anche se le dinamiche erano un po' diverse. E insomma, sono curiosa di sapere quali sono le vostre opinioni, quindi come al solito, come vi dico sempre, ci becchiamo qui sotto nei commenti. Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti! Al prossimo video Grazie a tutti.